Buongiorno a tutti, mi chiamo Vunte Girelli, sono responsabile italiano per RediArc. Oggi Air Liquide e RediArc sono presenti alla miera perché vogliono potervi presentare e mostrare quali sono i vantaggi, i notevoli vantaggi di un nuovo approccio al modello della saldatura che è il noleggio. Air Liquide infatti, grazie alla sua consociata RediArc, è in grado di proporre ai propri clienti delle soluzioni molto flessibili di noleggio, sia in termini di varietà di prodotti sia in termini di varietà di tempistiche di noleggio e permette quindi ai propri clienti di approcciare il mondo e il business della saldatura in un modo che ancora non esiste in Italia. Non esiste in Italia perché in realtà in Europa è un modello di business che è molto sviluppato. In tutti i nostri vicini di paesi, in Francia, in Inghilterra, in Germania, in Olanda, hanno una struttura di noleggio che è già radicata nel territorio, è una realtà molto presente. Quindi perché gli altri paesi lo stanno facendo e in Italia ancora no? Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono diversi. Il primo è che si ha la possibilità di poter pagare la macchina per l'effettivo utilizzo che se ne fa. Quindi non comprarla per utilizzarla per un certo periodo ma comprarla, cioè noleggiarla solamente da quando hai bisogno di saldare. Puoi ridurre al minimo i costi relativi all'attività di manutenzione e stoccaggio perché ci pensiamo noi. Puoi andare a ridurre ovviamente lo spazio per stoccare il tuo materiale perché una volta finito l'utilizzo ritorna da noi. E puoi consentire di investire i tuoi soldi laddove hai maggiore profittabilità. Con il noleggio non devi investire immediatamente l'intero capitale. Inizia a pagare settimana per settimana. È possibile inoltre anche avere un'idea dei costi certi di quello che è la tua attrezzatura. Per quale motivo? Se tu hai un progetto da fare verso un cliente esterno. Normalmente compri l'attrezzatura, l'attrezzatura è un costo ma quello è un costo iniziale perché durante il svolgimento tutto del tuo progetto puoi pervere dei costi nascosti che sono i costi di manutenzione, di servizio, il fatto di avere dei ricambi, il fatto di dover aspettare e bloccare la produzione ne ha atteso di avere quei ricambi. Con Rediar che con noleggio non è così. Tu spendi la tua cifra iniziale e quella ti copre tutto quanto. Quindi dall'inizio alla fine del progetto il costo è sempre quello. Perché non leggiare a Rediarc? Rit your welding equipment from the welder rental specialist. Si alza a Redi. For over 60 years Rediarc has been providing customers with the right welding equipment when and where they need it. But that's not all we do. Our line of weld positioning equipment is available for sale, lease and rent as well as turnkey weld automation packages complete with installation and training. Need job site power? We rent portable diesel, natural gas or LPG fuel generators and power distribution panels. Our diverse range of equipment means our customers always find what they need including plasma cutters and smoke extractors. blast cleaning equipment for cleaning and prepping surfaces fast and efficiently. All your CNC plasma and oxy fuel cutting equipment needs including sales, repair, service and integration. And induction heating systems when you need to heat parts to a specified temperature fast. But what really sets Rediarc apart? Our customer service and welding process expertise. We always ensure that you get the right equipment for your needs and budget. Call Rediarc today. Stop by one of our... Who is Rediarc? Rediarc? Rediarc is a multi-nazionale canadese leader mondiale nel settore del noleggio di attrezzatura. Quale tipo di attrezzatura? Nel video ne abbiamo visti diverse. Tutto quello che ruota attorno all'arco di saldatura. Quindi dai generatori ai motogeneratori ai posizionatori a rulli a tavola a sistemi dedicati di induzione o di trattamento del materiale. Attraverso Rediarc Air Liquide è in grado di proporre dei tassi, dei periodi di noleggio molto flessibili. Andiamo da una settimana, una settimana, un giorno, arriviamo fino a tre anni. La chiave importante per Rediarc è che Rediarc ha la flotta di attrezzature più grande e esistente al mondo. Abbiamo, per darvi un'idea, più di 72.000 attrezzature disponibili sul territorio, più di 4.000 motogeneratori o sistemi di automazione. che soprattutto siamo in grado di consegnarvi dove volete, quando volete, per il tempo che volete. Quindi per l'utilizzo effettivo che ne dovete fare. La rete Rediarc è distribuita attraverso oltre 70 centri di assistenza che stoccano il nostro materiale e danno il servizio di manutenzione e di servizio tecnico di assistenza e sono dislocati nelle aree del mondo dove ci sono i maggiori centri di produzione di saldatura. Attraverso questi centri quindi siamo in grado di consegnarvi il materiale ovunque nel mondo indipendentemente da dove il nostro cliente si trova. In Europa siamo presenti dal 2008 con un dead quarter che si trova a Manchester ma siamo presenti con delle filiali anche in Francia, in Germania, in Olanda e nel Middle East. In Italia la nostra avventura inizia con Heinec nel 2014 e ad oggi abbiamo quattro partner che ci stoccano il nostro materiale, distribuiti su tutto il territorio. Oltre a questi, grazie alle Chidi e alle nostre consociate, siamo in grado di potervi seguire sul noleggio, sulla vendita di attrezze a nottura nuove e anche di consumabili e soprattutto darvi anche il servizio del gas. Quindi siamo in grado di fornirvi una soluzione veramente completa in termini di varietà di prodotti. Qual è la gamma di RediArc? Il nostro core business è il noleggio. Oltre a quello possiamo vendere attrezzature usate, ogni tanto vendiamo una piccola parte delle nostre attrezzature in maniera da comprare sempre prodotti tecnologicamente avanzati da proporre ai nostri clienti oppure vendere linee di automazione completa. Il punto di forza di RediArc, come vedete, oltre ad avere un'attrezzatura molto ampia è che abbiamo comprato le attrezzature dai migliori produttori per ogni tipologia di processo. Quindi per ogni processo di saldatura siamo in grado di offrirvi quello che di meglio propone il mercato. Questo significa avere anche la maggiore qualità possibile nell'utilizzo quotidiano. Abbiamo una flotta molto ampia e tutti i nostri prodotti sono stati realizzati per garantire la massima affidabilità e la massima produttività nel vostro lavoro. Siamo certificati come extreme duty, quindi in ambienti lavorativi molto intensivi. Di conseguenza, perché noleggiare da RediArc? Per le dimensioni della flotta, come vi dicevo, abbiamo un'attrezzatura, una flotta molto ampia quindi siamo in grado di soddisfare qualsiasi vostra necessità e qualsiasi tipologia richiesta. Abbiamo una quantità di materiale molto diversificata. Come dicevamo, andiamo dai generatori per andare a soluzioni dedicate come pulizia creogenica. Abbiamo oltre 700 distribuzioni pronti a potervi servire e a supportare nel miglior modo. Quindi trovate il centro più vicino a voi. La gamma di RediArc si comprone in quattro tipologie di linee. La Welder Rental, che è per il noleggio di prodotti standard. La Welder Automation, quella dedicata alla parte di automazione. La Power Rental, per la distribuzione di energia. Mentre la Blast Rental, per la pulizia creogenica. L'idea di questa parte della presentazione è di darvi solo qualche spunto sul materiale che possiamo avere a disposizione a proporvi. Poi vi invitiamo a trovarci al nostro stand per avere dettagli molto più importanti. Abbiamo quindi la parte di generatori di salatura, come dicevamo, processi MIG, MAG, TIG e multiprocesso, quindi elettro con lift arc. Abbiamo possibilità di fornirvi generatori singolarmente o in pack da sei o quattro pezzi. Abbiamo possibilità di darvi anche motogeneratori. Abbiamo i migliori marchi che propone il mercato. Abbiamo ovviamente soluzioni dedicati per l'automazione. Abbiamo prodotti dedicati all'arco sommerso, quindi impianti autonomi di saldatura. Ovviamente Lincoln perché è la marca principale per questo tipo di processo. Abbiamo dei carrellini, delle soluzioni dedicate. Posizionatore a tavola di qualsiasi tipo. Posizionatore a rulli da quelli standard a quelli basculanti, autolineanti per posizionare diametri molto grandi e spessori molto piccoli. e ovviamente la linea di manipolatore. Abbiamo la possibilità di darvi anche prodotti di dimensioni molto molto grandi. Quindi nella fattispecie l'esempio è di un manipolatore telescopico sette metri d'altezza per nove metri e mezzo di braccio. Abbiamo soluzioni dedicate per il cladding, soluzioni dedicate per la saldatura di serbatoi on site. Abbiamo delle soluzioni dedicate per la preparazione e la rifinitura meccanica del cianfrino. in modo da evitare le problematiche legate ai processi tradizionali quali l'osso acetilenico. La fiamma ti permette di tagliare ma poi ti crea una bava che dobbiamo andare comunque a rimuovere di molatura. Attraverso questi sistemi andiamo a fare la lavorazione meccanica permettendomi di fare l'accoppiamento diretto per la saldatura dei tubi. Abbiamo sistemi di preriscaldo a induzione della Miller raffreddati ad aria o ad acqua. Abbiamo una soluzione dedicata per la pulizia creogenica. Normalmente per pulire i nostri prodotti gli stampi delle fonderie viene utilizzata la pulizia attraverso sabbiatura. La pulizia attraverso sabbiatura ha delle problematiche. Dovete chiudere tutto il reparto nel momento in cui state lavorando, avete molta polvere poi da dover eliminare e le polveri che si utilizzano sono ovviamente abrasive e rischiano di andare a intaccare anche la superficie del vostro materiale. Attraverso la pulizia creogenica, quindi attraverso l'utilizzo di ghiaccio secco sparato ad alta pressione, abbiamo la possibilità di rimuovere tutte queste problematiche. Abbiamo una promozione dedicata che dopo andremo a presentare presso il nostro stand. Abbiamo la possibilità ovviamente di dare anche non solo generatori e prodotti manuali, ma anche tutta la linea dedicata all'automazione. Abbiamo la possibilità di mettere una parte dei nostri prodotti in vendita come usato. Questi prodotti vengono ricondizionati, puliti, ricontrollati, ricertificati, viene emesso una garanzia ovviamente relativa all'usato e vengono anche calibrati. Buy a used welder? ReadyArc sells professionally maintained welding equipment at a discount. Purchase equipment from North America's largest inventory of used welding and weld automation equipment. ReadyArc offers equipment from leading manufacturers such as Lincoln, Miller, Hypertherm and Bug-O. Our professionally maintained equipment is regularly serviced by our factory trained technicians. We carry an extensive inventory of Quality Check refurbished welders. Quality Check welders look and run like new. You can rest assured that our used equipment is safe to operate, in good working order and comes with a warranty. With ReadyArc you're getting quality equipment backed by a company you can trust. Stop by your local ReadyArc branch today. Give us a call or visit us on the web at ReadyArc.com. A livello di noleggio, di vendita di usato, come vedete possiamo andare a vendere come occasione dei prodotti che possono andare dai generatori ai prodotti automazione. Come detto precedentemente noi li risistemiamo, li ricondizioniamo, li testiamo e poi alimentiamo in vendita. Abbiamo delle promozioni attive dedicate a questa fiera presso il nostro stand. Quindi a livello di supporto locale avete un partner, i vostri distributori, i distributori early kid, avete un gruppo ReadyArc pronto ad aiutarvi, un manager italiano pronto a seguirvi in ogni vostra esigenza, responsabili europei che vengono quotidianamente e messimente anche presso il nostro territorio, un'azienda europea che ci fabbrica tutti i prodotti di automazione e un'assistenza tecnica a livello europeo. Quindi a disposizione in realtà non avete un'organizzazione locale ma in realtà un'organizzazione globale. Grazie mille, venite a trovarci presso il nostro stand. Grazie mille, venite a trovarci presso il nostro stand. Grazie.